Una preghiera ha portata di un click. L'idea è dei frati del Santuario della Verna. Per essere vicini a tutti i fedeli in questo momento così particolare e difficile, in cui anche il santuario purtroppo è chiuso e di pellegrinaggi, hanno subito uno stop. Ecco allora che la tecnologia ci dà una mano per le esigenze non solo del corpo, ma anche dello spirito. Sul sito ufficiale del santuario c'è infatti una nuova sezione, in cui è possibile lasciare un'intenzione di preghiera, in forma privata. Basta un click ed un membro della comunità religiosa, per una settimana si assumerà l'impegno di pregare per l'intenzione che gli è stata consegnata. La domenica successiva tutte le intenzioni di preghiera della settimana saranno presentate al Signore durante la processione comunitaria dei frati alla Cappella delle Stimmate di San Francesco. Nella stessa pagina del sito c'è anche la possibilità di richiedere online le celebrazioni delle sante messe, ad esempio per i propri defunti. Le funzioni avverranno a seconda delle richieste, non è quindi possibile scegliere una data. Anche le offerte potranno essere così effettuate tramite un click. Insomma, la fede ai tempi del coronavirus si vive anche così.